La primavera arriva anche nei nostri piatti, oggi prepariamo un piatto tutto primaverile con verdura di stagione. Cosa stiamo preparando? Allora oggi l'Osteria da Cosimino vi consiglia un piatto primaverile, come vedete usiamo dei prodotti stagionali, pomodorine, ciliegine, della zucchina, la cipolla e dell'aglio e delle patate. Cominciamo dalla pasta? Sì, abbiamo preparato un impasto per fare gnocchetti di patate, abbiamo usato mezzo chilo di patate, 150 grammi di farina e un uovo. Abbiamo impastato del tutto e prepariamo dei gnocchetti di patate fatti in casa. Il piatto che facciamo oggi sono dei gnocchetti di patate primavera, come ingredienti usiamo i gamberetti e la zucchina a profumo di pesto. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto e procediamo alla preparazione dei gnocchetti. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto, prepariamo un po' di pesto. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto, prepariamo un po' di pesto. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto, prepariamo un po' di pesto. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto, prepariamo un po' di pesto. Il basilico tanto usato, prepariamo un po' di pesto, prepariamo un po' di pesto.